Non siamo forse invitati dal Salmo a lodare Dio sull'arpa a dieci corde? E Sant'Agostino ricordava proprio queste dieci corde dell'arpa di Davide, mentre un midrash ebraico ci dice che dieci erano i giusti che componevano le dieci corde di questo misterioso salterio. Adamo, Melchisedec, Abramo, Mosè, Davide, Salomone, Asaf e i tre figli di Core, come dieci testimoni della fede che cantano attraverso le dieci corde di quest'arpa il loro inno di gratitudine e di lode a Dio. Popolo di Dio, sani, malati, tutti quanti siamo le dieci corde di quest'arpa di Davide che cantiamo qui, le lodi di Dio.